Castio Dermacu, qualche anno fa dalla C direttamente alla A con l'Empoli, ti mancava una categoria che hai conquistato un po' a sorpresa l'anno scorso? Sì, forse il passo era un po' troppo lungo, passare dalla C alla A, sicuramente un anno di B mi sarebbe servito tanto, come mi sta servendo adesso magari per mettermi in mostra, però penso così sia la strada migliore perché te la godi di più, quando vinci il campionato alla C è tutto diverso. Per un tipo abbastanza freddo, almeno così sembri come te, però la gioia è stata immensa l'anno scorso? Sì, posso sembrare freddo ma sono un ragazzo molto emotivo, l'anno scorso è stato qualcosa di incredibile ancora riguardo le immagini e mi emoziono rivedendo i video delle partite, magari anche lo stesso del Sub-Tirol che magari non ha giocato ma è stato qualcosa di incredibile. Una magia che si è ritrovata anche nell'ultima partita perché la festa finale, la gioia di segnare all'ultimo minuto è stato veramente come ritornare indietro nel tempo e rivedere appunto le stesse scene, la stessa sintonia che c'è stata l'anno scorso e questo è un bene per il Cosenza. Sì, sicuramente quello è importante, le basi c'erano l'anno scorso, c'erano quest'anno, il gruppo c'è e quindi queste cose penso possano solo fare bene alla squadra quindi chiaramente la cornice di pubblico ci dà una mano incredibile come ha fatto l'anno scorso, con questo inizio del campionato ci sta spingendo e speriamo venga sempre più gente allo stadio. Vermacu da Cosenza ha trovato un po' un trampolino di lancio anche per trovare la nazionale, con l'Albania è un'esperienza importante e quindi una chance per te non da poco. Sì, diciamo che loro mi seguivano anche quando ero in Lega Pro però magari non erano molto sicuri visto la categoria in Serie B mi hanno chiamato subito e sì, è stata un'esperienza positiva, comunque ti confronti con giocatori di alto livello, di categorie superiori magari anche a livello europeo quindi sono contento. Ecco, il Cosenza per ora nonostante abbia giocato tanto e bene non è riuscito a portare a casa tutti i punti che meritava perché però il salto di categoria è stato assorbito bene, al di là dei punti conquistati il gioco e il carattere del Cosenza sta venendo fuori. Sì, siamo partiti abbastanza bene, diciamo non abbiamo sfigurato penso quasi mai, magari in qualche partita in alcuni momenti della partita non abbiamo fatto bene però non ci dobbiamo cullare su quello perché un campionato lungo è difficilissimo, non bisogna veramente mollare mai, lo dimostrano le partite ci sono sempre, succede sempre di tutto dall'ottantacinquesimo in poi, c'è successo a noi sia in svantaggio che magari a Carpi o con l'ultima partita siamo riusciti a recuperare due partite importanti quindi il calcio ti dà e ti toglie se tu ci credi sempre fino alla fine poi gli episodi a volte ti vanno bene, altre no. Adesso la gara con lo Spezia, vi trovate più o meno in una situazione in cui il Cosenza era quando ha vinto con il Foggia cioè mettendo un piccolo solco fra voi e la zona caldissima della classifica, è il momento di far fruttare questo vantaggio. Sì, sarà una partita difficilissima, andiamo in un campo difficile e penso che fare risultato sarebbe già un buon punto per proseguire questo cammino perché poi avevamo partite difficili come Benevento, andiamo a Venezia, quindi dobbiamo continuare così e poi verso marzo-aprile tirare le somme perché è ancora presto. Di fronte ci sarà lo Spezia di un vostro ex compagno, un altro protagonista di quelle feste di cui abbiamo parlato, David Occherecche. Sì, l'ho incontrato solo in allenamento, è un giocatore che conosciamo, molto forte, molto veloce, tra l'altro un bravissimo ragazzo però saremo avversari per la prossima partita, quindi quello che abbiamo fatto l'anno scorso bisogna dimenticarlo. Grazie.